Bene, bene, eccoci qua ancora con un'ulteriore diretta qui su Bridge of Light. Oggi è lunedì 29 giugno 2020, parleremo di sincronicità. Aspettiamo che un po' alla volta arriviate, che le persone si colleghino qua. Ma incomincieremo a parlare questa sera di sincronicità. Benvenuti a tutti quanti, vedo che state arrivando. Ciao Letizia, ciao Domenico, buonasera Andrea, un po' alla volta state arrivando. Buonasera Stella, buonasera Sandra, buonasera, buonasera, buonasera Giulia. Ho cambiato inquadratura questa sera, buonasera Alessandro, buonasera Carla, buonasera, buonasera Lella. Buonasera, buonasera caro Gianfranco, buonasera Mariana, eccoci qua, un po' alla volta state arrivando. Aspetto che, buonasera Daniela, buonasera Francesca, benvenuta Mariangela, buonasera Stella, buonasera Alessandro. Betti, 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 ciao, ciao Filippo, carissimo, come stai, ciao Ivana, ciao Marco, bene, bene, ciao Elisabetta, carissima, come stai, Serena, Emilia, benvenuti, buonasera Alessandra, buonasera Viviana. Buonasera, buonasera in duo, Luisa, Luisa carissima, benvenuta, Elisabetta, ciao, Paola, bene, 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 vedo che state arrivando numerosi e copiosi come quasi tutte le dirette, la qualcosa non può che farmi immensamente piacere e tra qualche minuto incominciamo a questo ciao Sabrina, ciao ciao ciao, ciao Lalli, ciao Matilde, e tra qualche minuto inizieremo questo interessantissimo argomento sulla sincronicità, ciao Matilde, ciao Serena, che bel saluto, ciao Rihanna. Questo discorso sulla sincronicità che nel post di lancio che ho fatto oggi sembra aver ottenuto un discreto interesse da parte vostra, per cui mi auguro di essere all'attezza del discorso. Ciao Lella, buonasera Gloria, buonasera, allora stasera cercherò di essere brillante anche se effettivamente sono un pochino stanco perché questa domenica, questo fin di settimana abbiamo fatto un crayon day a Dancona, è stato un evento bellissimo, fantastico, pieno di cose, con una bellissima canalizzazione di crayon, però il giorno del rientro che è stato oggi per me è sempre un po' difficile perché c'è un pochino un contraccolpo, quindi stasera comunque cercherò di essere sempre all'altezza dell'incontro con voi, ovviamente come al solito faremo una parte teorica e poi lascerò lo spazio alle vostre domande in modo che questa ora come al solito ci voli via come tutte le altre volte. Fine settimana prossima sarò in un'altra parte d'Italia a fare un altro seminario con crayon, se qualcuno vuole avere informazioni mi scriva poi privatamente, così come magari mi può scrivere per altre cose tipo consulenze, consigli, canalizzazioni e quant'altro. Ciao Gianfranco, ciao Gianfrancesco, scusa, va bene, allora visto che siamo arrivati al numero che io considero un po' la soglia energetica per incominciare, ovvero siamo una quarantina, cominciamo. Allora, come avete visto, questa sera parleremo di sincronicità, che è un termine, come voi sapete, che si utilizza molto, specialmente anche in campo evolutivo spirituale, ma la prima cosa che dobbiamo definire è cosa significa sincronicità. Se voi andate a vedere le informazioni, la prima persona nel mondo, perlomeno nel mondo occidentale, che utilizzò questa parola sincronicità fu lo psicoterapeuta tedesco, psicologo psicoterapeuta tedesco, Jung, non Freud, ma Jung, che cosa intendeva con questo termine di sincronicità? Intendeva il fatto che due eventi avvenissero contemporaneamente, che avessero quindi tra di loro un nesso, ma che questi due eventi non interferissero uno con l'altro. Allora, quale può essere, per esempio, nella vita di tutti i giorni, un evento di sincronicità? Molto semplicemente, quando noi andiamo al bar a prenderci un caffè e c'è un'altra persona che noi non conosciamo, un poco più in là, adesso con la storia del Covid a un metro e mezzo o due di distanza, che si sta prendendo nello stesso tempo un altro caffè o un cappuccino. L'elemento comune è che siamo tutte e due in quel momento in un determinato posto, quindi in uno spazio fisico e anche in uno spazio quantico, e stiamo facendo un'azione comune. E ovviamente queste due persone non interferiscono una con l'altra, perché una sta bevendo il proprio caffè e l'altra sta bevendo l'altro caffè. Ma la sincronicità, oltre a questo, nel tempo ha preso anche altri aspetti. Per esempio, noi sappiamo che c'è il nuoto sincronizzato, quindi dove una serie di nuotatrici, perché di solito è più femminile che maschile, entrano in acqua, fanno tutti quanti una serie di movimenti, di evoluzioni, nello stesso momento cercando di fare lo stesso gesto. Poi altre tracce di sincronicità sono state introdotte, per esempio moltissimi anni fa, in una canzone dei Police, che si chiama proprio Syncronic City. E quindi vediamo che questo discorso della sincronicità è fondamentalmente un discorso che nel tempo viene portato avanti. Ma Crayon, appunto, ed è per questo che noi siamo qui in diretta, ha ripreso questo concetto e gli ha dato una sua ulteriore interpretazione. E qual è l'interpretazione che Crayon dà alla sincronicità? Dove ovviamente come sincronicità abbiamo le due radici, no? Una che è proprio sincro, che significa sincronizzato, in ordine, come il battito del cuore. Il battito del cuore ha, diciamo, un battito che è proprio sincronizzato, quindi c'è un movimento che deve essere fatto in un determinato ordine, sincronizzato e deve essere un movimento coordinato. E poi c'è anche la radice kronos, che da greco significa tempo. Quindi la sincronicità è qualcosa di alcuni movimenti che vengono sincronizzati nel tempo. E quindi Crayon, partendo da questa seconda impostazione, ha detto che la sincronicità sono tutti quegli accadimenti che nella mia vita io vivo, che noi possiamo vivere e che comunque hanno nel tempo, cioè da questo momento, per esempio, a ritroso, un loro collegamento, un loro filo. Vi faccio un esempio. Noi questa sera siamo qui, che state ascoltando me, che sto facendo questa diretta sulla sincronicità. Prima di questa diretta io ne ho fatte delle altre e quindi questo è il primo collegamento della continuità del mio lavoro qui su Bridge of Lights. Qualcuno ha incominciato a seguirmi dall'inizio, qualcuno un po' alla volta si è aggregato e prima di Bridge of Lights io perché sono stato invitato qui, perché comunque ho un mio gruppo, ma al di là di questo gruppo sono conosciuto proprio come canale di Crayon. Quindi il fatto di essere stato canale di Crayon mi ha portato a portare qui queste dirette. E perché sono stato, sono conosciuto come canale di Crayon perché appunto vent'anni fa Crayon è apparso nella mia vita. E perché Crayon è apparso nella mia vita? Perché a monte di tutto questo, quindi andiamo ancora più dietro nel tempo, io ho messo l'intenzione di fare una ricerca spirituale. Quindi fondamentalmente il fatto che io sono qui a trasmettere in diretta con voi ha dietro di sé tutta una serie di fatti concatenati nel tempo che tra di loro hanno una coordinazione e hanno una perfetta logica e conseguenza. Quindi quando voi volete capire di una determinata cosa qual è la sincronicità, quali sono stati i legami che nel tempo, a distanza anche di anni, di moltissimi anni voi diciamo, ai quali voi siete collegati dovete semplicemente domandarvi che cosa è successo prima rispetto alla situazione di adesso. Cioè perché io sono qui, se ero prima in quella situazione che cosa c'era prima e che cosa c'era prima e che cosa c'era prima. Quindi per rendervi conto della sincronicità delle cose che vi stanno accadendo dovete semplicemente fare, tra virgoletta, una linea del tempo. Non so se voi avete mai visto i film polizieschi specialmente americani dove devono ricostruire i movimenti o di una vittima o di un probabile assassino o di qualcuno che comunque loro devono seguire. si vede molto spesso in questi telefilm una lavagna o comunque diciamo un qualcosa su quale scrivere con una linea e sopra questa linea vengono proprio indicate delle tappe dove ci sono le informazioni riguardanti quello di cui loro stanno indagando. La linea del tempo è esattamente questo. E allora detta in questi termini la sincronicità sembra una cosa moderna, rivoluzionaria che fondamentalmente prima non esisteva e adesso esiste. Invece l'errore è questo perché la sincronicità non è, tra virgolette, nell'impostazione che gli ha dato Crayon e che lui utilizza molto non è nient'altro che la trasposizione in termini occidentali della cosiddetta legge del karma cioè della causa e dell'effetto molto semplicemente. Solo che la legge del karma è sempre stata considerata e vissuta tra virgolette in termini di negatività e soprattutto è sempre stata vissuta a discorso delle vite precedenti. In realtà il karma è veramente ciò che lega l'effetto alla causa che l'ha generato e non è detto che le sincronicità o il karma siano per forza degli eventi negativi perché io vi ho appena fatto un esempio del fatto che io sono qui a parlare con voi che è una cosa estremamente bella estremamente positiva per me e mi auguro anche per voi che mi state seguendo io ho fatto tre o quattro tappe di quello che mi è successo prima per arrivare qui e non ho parlato di eventi tragici ho parlato comunque di eventi belli e di eventi piacevoli che riguardano la mia vita e la mia esistenza per cui quando voi volete comprendere un fatto della vostra vita e capire che cosa è successo prima è importante che voi fate questo discorso di andare a ritroso e lo potete utilizzare questo per esempio per il vostro cammino spirituale lo potete utilizzare per esempio per i vostri problemi mi auguro che non siano tanti materiali lo potrete utilizzare per comprendere una relazione di amicizia o di amore o comunque una relazione con qualche altra persona del perché è arrivata a quel punto e che cosa c'era prima e che cosa c'è stato prima eccetera 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 per cui io vi consiglio veramente di fare questo lavoro di sincronicità che Crayon chiama anche un lavoro di ricapitolazione ovvero di andare dal momento presente indietro nel tempo per capire quali sono tutti quegli eventi che sono stati collegati a una determinata situazione che noi stiamo vivendo e ripeto non deve essere per forza una situazione spiacevole può anche essere una situazione molto piacevole quindi cosa guadagniamo noi che stiamo facendo evoluzione spirituale e che soprattutto cerchiamo di fare un'evoluzione come potrei dirvi di di comprensione guadagniamo il fatto che se riusciamo a trovare queste cause tra quello che sta succedendo e quello che è successo prima noi armonizziamo la nostra vita quindi attivare l'energia della sincronicità nel ricostruire i passaggi della nostra vita ci può aiutare per due cose la prima per comprendere meglio le relazioni che ci sono tra di loro e quindi più comprendo le cose e più sono capace magari di porvi rimedio e di capire in che direzione andare e la seconda è che facendo questo io creo una armonizzazione perché il problema più grande che noi abbiamo nella vita in esistenza specialmente per coloro che pensano che la vita sia un insieme di fatti che sono casuali tra di loro e che non c'entrano assolutamente niente perché molte volte le persone si dicono ma io sono in questa situazione non capisco come ci sono arrivato non ho fatto niente di male perché mi sta capitando a me questa cosa eccetera 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 e allora magari vediamo che forse non è che noi abbiamo fatto qualcosa di male ma se andiamo indietro nel tempo riusciamo a trovare che c'è qualcosa di collegato a quello che stiamo vivendo adesso magari molto molto indietro nel tempo al quale all'epoca non abbiamo fatto attenzione perché se ci avessimo fatto attenzione allora probabilmente adesso non ci troveremo con un problema da risolvere quando appunto l'esaminare la sincronicità riguarda dei problemi e allora io proprio vi invito al di là delle domande che mi che mi volete fare dopo sia sul tema della sincronicità che su altre cose vi invito da domani o da stasera se volete di cominciare a scrivere su un foglio di carta quali sono gli episodi più grossi della vostra vita in cui voi vi sentite immessi in questo momento e possono essere appunto problemi che voi state vivendo oppure invece possono anche essere cose piacevoli per comprendere qual è diciamo la linea del tempo che nella vostra vita si è armonizzata che ha creato una serie di cause ed effetti che vi ha portato nella situazione attuale nella quale voi siete e quindi a questo punto come posso utilizzare al meglio la mia la sincronicità a mio favore perché per quanto riguarda l'esame di dove io sono adesso rispetto all'analisi del passato un po' l'ho detto ma ovviamente la sincronicità se la si può utilizzare anche per influenzare positivamente il mio futuro il nostro futuro e quindi come possiamo utilizzare la legge della sincronicità affinché il passo successivo sia un passo per noi forviero di novità di positività di appunto di tante cose positive che ci possono capitare innanzitutto perché come detto prima se riesco a capire le cause da quello che sto vivendo a quello che c'era prima e c'era prima e c'era prima mi accorgerò in tutta questa armonizzazione che ci sono degli elementi che sono comuni per esempio se io sono una persona che costantemente mi trovo sottovalutata non mi trovo stimata non mi trovo amata e metto insieme tutta una serie di eventi che riguardano questo vedrò che la mancanza di autostima che ho nei miei confronti la mancanza di valorizzazione del mio modo di essere è una cosa che nella mia vita mi ha accompagnato e quindi so che per non avere più questo tipo di problema come posso utilizzare la soncrenicità a mio favore cambiando questo mio atteggiamento quindi cercando di avere maggiore autostima di considerarmi molto di più di amarmi molto di più e di mettere in atto tutta una serie di emozioni positive e di pensieri positivi che riguardano me stesso e la mia persona o addirittura come posso utilizzare in un altro modo la legge della soncrenicità a mio favore che facendo questo tipo di lavoro di introspezioni di analisi posso già intravedere e capire probabilmente che cosa mi potrebbe accadere in un prossimo futuro quali sono gli elementi e le situazioni che molto più probabilmente mi potrebbero accadere e quindi con questa sorta di introspezione so già come in qualche modo potrei evitare questi accadimenti o se non evitarli addirittura attutirne l'effetto su di me perché quando noi siamo veramente spiazzati dai problemi quando ci capitano tra capo e collo e non sappiamo esattamente in quel momento come venirne fuori ma se abbiamo già fatto un'analisi se abbiamo fatto già il nostro lavoro sulla sincronicità e sulla consapevolezza del nostro passato è chiaro che siamo perlomeno pronti perché diciamo diremo allora la prossima volta che succede questa volta questa cosa io diciamo non rimango impreparato non sono impreparato e sono capace di fronteggiarla questo è il modo migliore per utilizzare la sincronicità poi per tutti coloro che sanno che noi possiamo essere dei co-creatori della nostra vita che possiamo utilizzare la nostra intenzione per cambiare la sincronicità da questo momento in poi è chiaro che usando il nostro potere di immaginazione la nostra capacità di dirigere la vita e l'esistenza a maggior ragione abbiamo un modo in più per utilizzare la sincronicità a nostro favore ma per tutti coloro che invece non hanno e non sanno come fare questa cosa per esempio un altro buon modo per utilizzare la sincronicità a proprio favore è quello di una volta che si è visto si è analizzato tutto il passato in questa reazione di causa e di effetto è quello di comunque considerare tutto quello che abbiamo vissuto come qualcosa da quale abbiamo dovuto imparare magari a volte con grande sofferenza ma che comunque questo insegnamento ci ha portato a una comprensione e quando abbiamo una comprensione noi abbiamo comunque un beneficio e quindi un altro buon modo per cambiare la nostra linea delle sincronicità ed entrare in una linea di sincronicità molto più propizia a noi è quella di considerare tutto ciò che abbiamo vissuto comunque con con un'esperienza che ci ha portato qualche frutto che ci ha portato beneficio che ci ha portato comprensione e già questo potrebbe essere veramente un buon un buon viatico per cambiare la linea delle sincronicità dell'esistenza e nella vostra vita ultima cosa che voglio dirvi prima di lasciare spazio alle vostre domande è questa la vita di ogni persona è una vita fatta di tantissime cose per cui è abbastanza difficile cercare di fare la sincronicità su tutta l'esistenza della nostra vita cioè se io prendo la giornata di oggi e da questa giornata di oggi voglio fare la sincronicità di tutto quello che mi è successo prima diventa difficile perché anche se in una giornata noi abbiamo tre o quattro o cinque eventi che ci capitano è difficile poi andare indietro considerando l'insieme di questi eventi per fondamentalmente riconsiderare la nostra vita per cui vi do due consigli il primo è questo cercate di organizzare la sincronicità la comprensione della vostra esistenza per per linee guida quindi per esempio se ho un problema di salute concentrarmi su quello e andare a ritroso se ho un problema di se ho un problema di guadagno di soldi prendere quella singola parte della mia vita e fare il discorso a ritroso e così via cioè cercare proprio delle linee che tra di loro si possano intersecare senza cercare di voler ricapitolare tutta la mia vita e la mia esistenza perché altrimenti non ce la facciamo la nostra vita è piena di cose per cui non possiamo fare una sintesi diciamo di una sintesi di tutta l'esistenza quindi prendete un capitolo alla volta una situazione alla volta una descrizione alla volta e cercate di andare a ritroso fino a capire proprio tutte le in essi della causa dell'effetto che c'è rispetto a quella situazione della vostra vita e della vostra esistenza un'altra cosa importante che vi può aiutare molto è analizzare le vostre emozioni e i vostri pensieri se siete in un momento in cui per esempio avete dei pensieri abbastanza cupi cercate di considerare se questi pensieri che voi avete che sono abbastanza cupi hanno sempre riguardato un certo tipo di situazione quella nella quale magari voi siete oppure se sono indipendenti dalle situazioni che voi avete state vivendo e cercate di comprendere quali sono le situazioni che più facilmente vi generano questi pensieri cupi e allora comprenderete che forse non sono le situazioni che generano i vostri pensieri cupi ma è la vostra predisposizione a avere un certo tipo di visione della vita e la stessa cosa la potete fare esaminando i vostri stati d'animo e le vostre emozioni quindi avete due modi per lavorare sulla sincronicità uno tra virgolette esterno analizzando i fatti e analizzando questi fatti cambiandoli mettendoli per vari capitoli varie diciamo varie linee guida e un altro è più interno ovvero partendo dai propri pensieri osservando le proprie emozioni osservando i propri stati d'animo e vedrete che se vi allenerete un po' alla volta a fare questo lavoro sulla vostra sincronicità interiore vi accorgerete che la vita vi diventa molto più facile avrete una comprensione molto più rapida di quello che vi accade e la vita non vi sembrerà più una serie di eventi messi lì per caso ma riuscite veramente a comprendere quello che è il vostro filo il vostro filo conduttore di tutto ciò che avete vissuto e di tutto ciò che vi sta capitando e questo è importante per cui ricapitolando la sincronicità non è solamente quella che ha definito appunto Jung il fatto appunto di due eventi che avvengono contemporaneamente che hanno qualcosa in comune ma che tra di loro non interferiscono e ho fatto l'esempio appunto delle due persone che in un bar bevano contemporaneamente un caffè ma è anche il discorso della sincronicità come Kryon ha impostata una versione appunto moderna del discorso della causa e dell'effetto quindi è una rivisitazione della legge del karma come ovviamente il karma non è semplicemente e per forza collegato a qualcosa di doloroso o qualcosa di positivo anzi nel momento in cui voi vi allenate a vedere quali sono le relazioni tra quello che state vivendo e ho ripetuto potete farlo esternamente analizzando i fatti e analizzando ovviamente i vari capitoli della vostra vita e della vostra esistenza perché tutti insieme non lo potete fare oppure partire dal vostro interno quindi da vostre emozioni dai vostri stati d'animo e dai vostri pensieri e allora credo che insomma abbiamo messo diversi spunti in tavola perché voi possiate se avete voglia cercare di comprendere qualcosa di più nella vostra vita e comprendere che quindi i vostri fatti quello che vi riguardano non sono più in una linea del tempo diciamo lineare che va da un punto A a un punto B ma nel momento in cui comprenderete che c'è una relazione tra questi fatti la vostra linea del tempo da lineare diventerà circolare perché comprenderete quali sono gli effetti quali sono scurate le azioni che tra di loro nella loro vita si toccano per produrre lo stesso effetto e nel momento in cui avete compreso questi effetti in modo circolare sarete anche abbastanza bravi a prevedere quello che probabilmente vi potrà succedere dopo rispetto alla storia che voi avete ricostruito rispetto a un argomento o una situazione nella vostra vita bene allora io adesso riguardo i commenti comincerò magari a salutare le persone che non si è adottato prima e se avete domande rispetto a questo che avete ascoltato o su qualsiasi altra cosa abbiamo ancora un bel po' di tempo per rispondere alle vostre domande allora io intanto vado indietro ho ancora i vari saluti bene 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 ciao Lella siamo tutti ok argomento molto utile dice Lella grazie Sabrina dice Eba mi saluta e mi saluta Andrea dice io per esempio avevo ricevuto un messaggio in sogno di stare più possibile più presente nei confronti di un amico e quattro mesi fa adesso capisco il perché perché lui avrebbe attraversato un periodo molto pesante e aveva bisogno di sostegno sì qui non siamo proprio nelle sincronicità siamo nel discorso delle delle diciamo delle premonizioni Stella mi dice ciao Angelo io ho sempre avuto problemi di denaro adesso che il mio compagno dovrebbe prendere dei soldi ogni volta c'è un problema può essere influenzato dal mio karma secondo me più che dal tuo karma può essere influenzato dalla tua bassa autostima dal fatto che tu in qualche modo in qualche modo legato anche alla figura maschile non ti valorizzi abbastanza perché la mancanza di denaro oltre le condizioni oggettive che ci sono è proprio legata al fatto che uno una persona non si dà abbastanza valore quindi rivedi questo lato e vedrai che sicuramente questa situazione migliore Emilia dice sei stato come sempre prezioso grazie grazie Emilia Roberta buona semplice vedrò indifferita ma non è mica finita Roberta ci abbiamo ancora mezz'ora quindi è una scelta tua ma in due mi dice l'intento crea la sincronicità assolutamente sì l'intento guida la sincronicità infatti quando uno è ben cosciente consapevole del proprio intento avendo analizzato tutta la storia del suo passato sa con molta più precisione e con molta più puntualità maila di come poter diciamo indirizzare indirizzare il proprio intento e quindi creare la propria sincronicità quindi la risposta è assolutamente sì Sandra mi dice se in questa vita non riesci a risolvere dei problemi te li porti nella prossima vita anche se hai capito o hai sbagliato magari chiedi perdono se riguarda una persona allora innanzitutto non vedo perché dobbiamo aspettare le prossime vite visto che siamo ancora qui tutti belli vivi svegli e vegeti il fatto di capire di avere sbagliato è che non ci sono errori nell'esistenza non ci sono sensi di colpa ci sono solamente cose che noi dobbiamo comprendere o lezioni che noi dobbiamo diciamo mettere in atto quindi in realtà non c'è niente di cui non possiamo diciamo di avere sbagliato ma dobbiamo semplicemente comprendere che in quella in quell'occasione abbiamo agito in un modo che non abbiamo compreso nella prossima possiamo agire meglio se tu hai questo tipo di comprensione e ti riprometti che la prossima occasione sarà più capace di agire non avrai bisogno di creartelo come karma per le prossime vite chiedere perdono è sempre una cosa positiva ma anche chiedere perdono a se stessi non solo alle altre persone buonasera Lorena certo la prima mezz'ora va bene allora Isaura dice ciao Angelo vorrei chiedere a Craio se c'è relazione tra un fatto successo quando erano i miei primi lavori lasciavo tutto il mio stipendio al mio padre cioè alla mia famiglia mi ritrovo tuttora è certo a non avere uno stipendio per mantenermi certo perché nel momento in cui la buona intenzione è dare i soldi in famiglia per aiutare la famiglia ed è una cosa che moltissimi fanno però dall'altra parte non si crea un'abitudine alla autovalorizzazione di se stessi perché tutto questo è comunque vissuto con l'onda del sacrificio e ovviamente il sacrificio noi lo conosciamo perché significa rinuncia ma in realtà la vera origine latina di sacrificio era sacrum facere ovvero se rendere sacro tutto ciò che noi facciamo ed è chiaro che c'è una relazione perché tu nel tuo inconscio hai in qualche modo rinunciato ad avere una tua autovalorizzazione che diciamo era come potrei dire rappresentata dallo stipendio cioè non facevi tempo a avere questa autoriconoscimento per te stessa e quindi trattenere un po' di autoriconoscimento di autostima di autovalorizzazione che subito dovevi darlo dovevi darlo in famiglia quindi sicuramente c'è questo tipo di relazione ok bene mi auguro che intanto vedo se ci sono altri vostri commenti sono fermo al ringraziamento di Sandra quindi se avete qualche altra curiosità sul discorso della sincronicità sulla legge appunto del mettere in relazione aspetti la vostra vita io sono qui a rispondere nel frattempo vi dico che è importante riuscire a quando noi esaminiamo il nostro passato la legge di causa effetto riuscire a comprendere che cosa noi non abbiamo agito prima Sandra parlava di un discorso di perdono evidentemente è legato a qualche capacità o qualche qualità o qualche risorsa che noi non abbiamo agito e che magari adesso pensiamo di riuscire ad avere e pensiamo di riuscire a mettere in atto quindi è importante quando noi riesaminiamo il nostro passato di vederlo anche in termini di valori di capacità e di talenti che magari nella situazione attuale potremmo utilizzare e che prima non abbiamo utilizzato quindi serve anche da questo punto di vista il riesamino del legame che c'è nelle cose che ci accadono proprio per comprendere che sì posso magari chiedere perdono posso sentire di aver sbagliato questo può durare un certo periodo ma la cosa più importante è comprendere che la prossima volta sarò più pronto a utilizzare quelle capacità quelle risorse quei talenti o fare quelle cose o dire quelle cose che magari prima non sono stato capace di fare Alessandra mi dice mentre faccio molta fatica a collegarmi tra gli eventi ma può dare un aiuto a vedere se c'è qualcosa che vi dirà relativamente ai miei attuali problemi di salute grazie per darti un problema su quasi i tuoi problemi di salute avrai bisogno che tu fossi un pochino più specifica e dirmi a quali tipi di problemi ti stai relazionando così magari mi faciliti il lavoro anche a me lavorare con crayon ti accorgi che sei dentro ad ingranaggi che girano all'unisono perfettamente grazie caro domenico non ho capito niente di questo commento se tu fossi un po' meno criptico e un po' diciamo aurico e meno filosofico riuscirai a darti una risposta detta così ti posso dire sì cioè sì e no nel senso che boh non capisco cosa vuoi dire Filippo dice proprio per la sincronicità è accaduto che mentre ti ascolto mi chiama mia madre che avevo già sentito un'ora prima la cara mamma non vuole mollare la presa su di me che dice crayon di staccare il telefono alla prossima diretta molto semplicemente quindi è un questione molto molto pratico anche perché già tu hai capito che evidentemente tua mamma visto che l'ha messa in relazione con la diretta con crayon tra virgolette qualche tipo di influenza su te per quanto riguarda la tua evoluzione bisogna anche da questo capire qual è il beneficio che tu hai avuto e che è nell'atteggiamento di tua madre nei confronti di queste cose proprio perché magari ti ha fatto scattare la molla del bastan contrario e proprio per quella tu hai incominciato a fare la tua ricerca chi lo sa magari questo è un beneficio che potrebbe esserci sappiamo dire ok bene vedo che questa sera non siete molto domandosi a meno che non vada a rilento la mia chat ma non vi vedo con molte 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 domande e quindi io mi preoccupo perché vuol dire che o non mi sono spiegato per niente oppure oppure invece sono stato troppo bravo ma in entrambi i casi non va bene perché è quello che mi piace avere anche interazione con voi antri mi dice asma da stress di nuovo esattamente quindi quando c'è questo sintomo di asma da stress è proprio perché ci sono state tutta una serie di circostanze che hanno portato di nuovo questo sintomo oltretutto l'asma riguarda i bronchi e i bronchi e i polmoni riguardano anche degli shock quindi evidentemente in questo momento della vita si stanno ripetendo delle cose che in qualche modo ancora ti stanno scioccando e quindi sì è vero che c'è lo stress ma c'è anche a livello emotivo degli shock che tu ti faresti diciamo volentieri a meno di dover continuare a a giù nella tua vita nella tua esistenza Carla dice grazie molto interessante importante questo argomento cercherò di andare a retroso per capire eventuali problemi e gioie ti volevo chiedere come posso sfruttare la diretta di un discorso perché non ho potuto essere presente a proposito di sincronicità molto semplicemente mettendo su un bridge of light il mio nome e cognome ti vengono fuori tutti i post che io ho fatto e lì troverai la data di lunedì scorso che è lunedì 22 e troverai la diretta ok Giulia l'esercito deve essere fatto per capitoli di vita l'esercito l'esercizio non l'esercito l'esercizio deve essere fatto per capitoli di vita sì esattamente sì ma più per capitoli di vita proprio per tematiche perché magari per capitoli di vita potresti dire non so i miei primi vent'anni i miei primi gli altri vent'anni eccetera eccetera io invece non sarei tanto per capitoli di vita nel senso di termini anagrafici ma sarei per capitoli di vita proprio per argomenti allora è importante farlo farlo in questo modo è importante ok bene Francesca dice può essere considerato un caso di sincronicità aver conosciuto una persona a 16 anni averlo perso di vista dopo 30 anni e aver formato una coppia sì assolutamente sì bisognerebbe riuscire a capire questo molto interessante quali sono i passaggi che voi avete vissuto che da quella conoscenza a 16 anni fino al vostro ritrovamento adesso ciascuno di voi ha vissuto per essere di nuovo tornate a incrociarvi tanti anni dopo questo è una cosa che potreste fare entrambi e secondo me è un esperimento molto interessante grazie per questa riflessione perché è molto è molto diciamo significativa intanto ci sono altre persone che salutano sono felice che mi state salutando Carla dice quindi anche una malattia può essere per un problema vissuto precedente e certo che può essere anche per un problema vissuto precedentemente perché le malattie non insorgono mai dall'oggi al domani le malattie sono sempre la conseguenza di cose che sono state accumulate nel tempo che non sono state viste che non sono state percepite e infatti prima ho detto quando avete dei problemi di salute guardate andate indietro al tempo per vedere gli eventi che sono stati collegati a quel problema di salute perché è solamente così che potete dipanare le cose la salute il problema di salute è sempre una conseguenza nell'adesso di quello che è successo e si è come potrei dire accumulato prima che non è stato visto e non è stato risolto Andrea mi dice se è possibile per favore dirmi ciò a mia madre che ha sempre dei blocchi non riesce a capire se sono dovuti a questa vita o a vite precedenti grazie io direi che la cosa importante non è sapere se un blocco è dovuto a questa vita o una vita precedente ma è capire di che blocco stiamo parlando perché un'altra cosa della sincronicità io mi sono limitato a dire di voi di doverle diciamo in qualche modo risalire a questa vita ma nella sincronicità quando voi risolvete un problema adesso magari questo problema può essersi verificato cinque incarnazioni fa ma voi se lo risolvete adesso lo risolvete automaticamente anche quello che risale a cinque incarnazioni fa quindi non è tanto importante capire a quando risale il blocco ma è importante capire che tipo di blocco questo sarebbe molto più interessante sapere Alessandra dice io qualche tempo fa ero stressata nervosa esasperata e negativa di conseguenza facevo sogni brutti spesso e poi ero negativa sempre le cose mi andavano male da quando ho capito che dovevo cambiare come per magia essendo ottimista e positiva le cose mi vanno meglio in pace parole apprezzo quello che ho e dico sempre grazie questo è esattamente un esempio di quello che vi ho detto prima e ti ringrazio Alessandra proprio perché la testimonianza quando io vi dicevo di esaminare oltre che i vostri fatti anche i vostri pensieri stati danni di emozioni cercare di cambiarlo questo è un bellissimo esempio di come poi l'intenzione come ci ha domandato Mai l'intenzione che noi possiamo guidare la sincronicità quindi cambiando l'intenzione cambiando l'atteggiamento cambiando i pensieri cambiando lo stato d'animo poi gli accadimenti cambiano e perché succede questo perché noi siamo un fenomeno elettromagnetico ovvero siamo fatti di una parte elettrica e di una parte magnetica e la parte magnetica è quello che attira noi le cose nella nostra vita e che cos'è che produce diciamo magnetizza il nostro campo i nostri pensieri i nostri tatti d'animo e le nostre emozioni ricordatevi se qualcun di voi ancora non lo conosce non l'abbia mai visto gli esperimenti di Masore Motu sui fiori dell'acqua e quindi come il pensiero le emozioni potevano cambiare la forma dell'acqua e la forma del cibo quindi assolutamente cambiamo i pensieri cambiamo le emozioni e cambiamo gli stati d'animo buonasera Maria Concetta Paola dice Angelo ti chiedo se ha notificato le piccole sincronicità esempio citare un nome e vederlo scritto se apre un libro a caso pensare a una città e accendendo la tele vede sullo schermo hanno sicuramente un significato e sono significati di conferma quindi vuol dire che quel pensiero che stavi facendo rispetto a quella persona o quello che stavi pensando rispetto a quella città significa che tu lo stavi facendo lo stavi pensando e che per te era corretto quindi avere quel tipo di riscontro significa proprio avere una conferma che quello che stavi pensando o la decisione che stavi prendendo o quello che in qualche modo avevamo intenzione di fare rispetto al soggetto della sincronicità è corretto quindi queste piccole sincronicità sono degli esempi di conferma a me capita molto spesso quando faccio seminari con crayon che quando dico qualcosa che è corretto si sente sempre un rumore che proviene dall'esterno anche per esempio ieri nel crayon day ad ancora è successo un paio di volte o così magari quando ci sono le finestre aperte d'estate quando c'è una determinata frase determinata cosa che è particolarmente vera si sente il cinguettio degli uccelli o comunque qualche rumore che sottolinea questo quindi sono le piccole sincronicità che danno conferma e forza a quello che stai pensando e a quello che stai dicendo la quarantena dice Alessandra mi ha fatto trovare voi sono contenta e sto capendo tante cose grazie mille anche a tutti voi ti ringrazio di questa osservazione perché perché questo significa aver cercato di trovare un beneficio ovvero un qualcosa di positivo anche in qualcosa che apparentemente non aveva niente di positivo è sempre quello bisogna sempre cercare comunque in tutte le cose il lato positivo e il beneficio e questo anche cambia la nostra vita la nostra direzione la nostra sincronicità grazie Bruna dice come si spiega un rapporto con notevole differenza di età che saranno in perfetta armonia sono rapporti karmici rido perché questa ha risposta a una doppia valenza ovvero tu stai fotografando una situazione di rapporto adesso e tutto quello che stai vedendo di questo rapporto fino a questo momento ti viene a dire che c'è una perfetta armonia una perfetta eccetera eccetera sono rapporti karmici sono rapporti di affinità sicuramente se questi rapporti di affinità erano anche nelle vite precedenti sono anche dei rapporti karmici ma sicuramente sono dei rapporti di affinità quindi sono due anime affini o magari anche complementari che si sono trovate mi auguro e auguro per le persone diciamo per le quali tu hai fatto questa domanda che magari anche tra dieci o quindici anni questo rapporto sia ancora un rapporto in perfetta armonia perché dico questo perché innanzitutto quando ci sono dei rapporti è giusto viverli e viverli fino in fondo viverli in modo perfetto in modo armonico viverli facendo consapevolezza e coscienza cercando magari anche di capire nell'ambito del rapporto quali sono gli eventi che ci sono stati prima per correggerli e eventualmente riportarli in una sincronicità corretta e questo fa parte dell'essere coscienti di tutto quello che sta succedendo ma diciamo il giudizio o la consapevolezza finale di una qualsiasi cosa ivi compreso un rapporto lo si dà quando questa esperienza è terminata per cui a questo momento direi che le cose stanno così potranno continuare a stare così se entrambe le persone continueranno a crescere a fare consapevolezza quindi hai fotografato un'istantanea che è molto bella e molto positiva bisogna vedere alla fine del film se l'istantanea che tu hai scattato adesso verrà confermata ma io credo assolutamente sì Maria Angela buonasera quindi sincronicità è fare consapevolezza pensavo fosse di più cogliere occasioni al volo no quello si chiama carpe diem cogliere occasioni al volo si chiama carpe diem non si chiama fare consapevolezza perché le occasioni al volo non sono anzi molte volte non sono proprio fonte di consapevolezza perché le si prendono proprio al volo la consapevolezza la si fa dopo che l'occasione è stata presa la si fa dopo che l'occasione è stata vissuta perché se tu ti metti a fare consapevolezza quando il processo è in corso appena finito di rispondere alla persona prima non fai consapevolezza al massimo puoi essere testimone del processo che sta accadendo ma se ti fermi anche lì a fare consapevolezza coscienza del processo che sta accadendo perdi il tempo diciamo di di cogliere l'attimo fuggente che ti dico si chiama carpe diem oppure opportunismo ma non è sincronicità ok Daniela ciao ciao Angelo ogni volta che devo fare qualcosa per me mia madre si sente male mi ci viene quasi da ridere ma è sempre così è vero che io sono il punto fermo alla sua famiglia da quando aspetta ti ho perso da quando non c'è più un padre però se invece parte mio fratello è felice e sta bene certo perché perché tu sei ancora legata a lei da questo tipo di energia cioè lei nei tuoi confronti ha ancora questo tipo di proiezione inconscia perché nella sua testa tu sei la donna se è quella che comunque si deve sacrificare lui è maschio di casa cioè storie che abbiamo già vecchia che sappiamo e quindi la sua psicologia e il suo inconscio reagisce diversamente quindi sì è una gran sincronicità non positiva per te tu sai benissimo come poter visto che tutti gli strumenti poter interrompere interrompere questa questa causa effetto mi raccomando Daniela bene bene Angela dice spesso mentre lavo i piatti bella questa sento una leggera vibrazione simile a leggera corrente sulla parte superiore e posteriore del capo quattro anni fa sulle piastre della cucina aspetta sempre mentre lavo i piatti ho visto quattro piccole sfere colorate pastello che fluivano che fluttuavano dentro la piastrella nella decisione importante tipo acquisti importanti costosi vedo una piccola farfalla gialla e poi faccio l'acquisto che si rivela buono che significa beh cosa significa significa che tu stai secondo me sprecando il tuo tempo nel senso che se tu hai diciamo queste capacità di percezione queste capacità di percezione ti arrivano quando lavi i piatti perché lavare i piatti per esempio o farsi la doccia o fare dell'attività di cui ci occupiamo diciamo di noi stessi o della casa aiutano se non sono fatti sotto stress aiutano ad entrare diciamo nella fase alfa del nostro cervello o addirittura nella fase theta quindi in un rassamento molto profondo dove si manifestano determinati tipi di percezioni come quelle che tu hai avuto quindi siccome tu hai questa capacità comunque di percezione profonda io ti direi che ti converrebbe utilizzare queste capacità magari seguendo qualche corso seguendo qualcuno che ti insegni per riuscire a gestire tu e indirizzare queste tue capacità di percezione e di non legarle semplicemente a un'attività dove tu vai spontaneamente in alfa o in delta quindi a lavare i piatti piuttosto che a fare qualcos'altro quindi visto che hai questa grande predisposizione trova qualcuno che ti possa insegnare come vivere queste capacità e quindi sviluppare la tua intuizione perché poi quando appare la farfallina la farfallina è per te segno appunto che gli acquisti che vuoi fare sono sempre direi indovinati da quello che tu ci racconti per cui veramente cerca di sfruttare al meglio ed affinare questa tua capacità Angela dice può essere un abbraccio angelico in ogni giorno un dialogo con gli angeli anche no nel senso che può anche essere la tua capacità di utilizzare le tue capacità Gloria Gloria dice lo scarabeo io lo incontro quando sto per guarire da una malattia quindi ho pensato di usare dei simboli come risposte e vorrei sapere se questo se questo è un programma che metto nell'inconscio cioè un modo di programmarmi la sincronicità è direi un andiamo all'origine andiamo all'origine di questo è successo che tu a un certo punto hai notato più di una volta che quando stai per guarire incontri lo scarabeo quindi magari hai notato la prima volta l'hai notato forse la seconda sicuramente l'hai notata la terza quindi sei tu che hai creato un legrame e hai capito che c'era una sincronicità per cui non è tanto un programma che tu hai messo nel tuo inconscio ma è proprio la conferma la conferma di una sincronicità cioè che l'universo attraverso lo scarabeo ti sta dando un segnale di quando tu stai migliorando il tuo stato di salute quindi è un po' come la signora di prima che diceva che accende la televisione c'è la città della quale stava parlando eccetera eccetera è una conferma quindi sono quei legami che noi creiamo con le situazioni con l'universo esterno che ci parla e nel tuo caso si manifesta in questo modo Giorgia dice Angelo allora tutti i miei problemi con gli affetti e il dolore che ne derivano può essere dovuto alla sincronicità alla sincronicità Giorgia potrei dire sì ma anche no perché comunque la sincronicità e la ripetizione degli eventi come ho detto nella parte iniziale della trasmissione è legata quando gli eventi si ripetono è perché noi non gli stiamo prestando abbastanza attenzione cioè non gli stiamo dando non gli stiamo facendo l'analisi di quello che è successo e allora le cose continuano a ripetersi finché noi non gli prestiamo la giusta attenzione e purtroppo per noi si ripetono sempre in forma peggiorativa per cui al primo momento di quando abbiamo qualche problema specialmente legato alla salute il dolore dovremo fin da subito comprenderne il significato perché altrimenti poi questi eventi tra di loro si legano e creano per noi una sincronicità ai noi dolorosa ciao Stefano Filippo dice da Monica ciao Monica mi capita spesso che guardo l'orologio i numeri sono ripetuti tipo 1 1 o 0 5 0 5 16 16 cosa significa questa sincronicità di numeri io dico sempre che significa che il tuo lato maschile e il tuo lato femminile quindi la tua energia maschile la tua energia femminile quindi tutto il tuo intero essere è totalmente allineato sul significato di quella vibrazione magari stasera non ho tempo una delle prossime puntate vi farò il significato della della simbologia dei numeri secondo appunto crayon per esempio 11 11 se lo sommi dal numero 4 quindi il numero 4 è un processo di completamento un po' come l'adolescente che deve diventare adulto 5 e 5 danno 10 quindi 1 quindi l'inizio di un percorso un po' come quando praticamente lo spermatozoo feconda l'ovulo cioè proprio l'inizio la fecondazione 16 e 16 fanno 14 4 1 5 quindi il completamento e la maturazione in una determinata situazione quindi bisogna capire quando questi numeri sono allineati capire che la nostra parte maschile femminile la nostra energia che ci sorreggono è completamente allineata e allora facciamo la somma dei numeri per capire il nostro intero essere che cosa ci sta dicendo attraverso questi numeri ciao Sara ciao Sara Verderi un bacione bene allora Emilia credo che concludo con te perché sono quasi le 20 quando preferisco dare retta agli altri o piacere assecondandone invece che seguire la mia crescita personale mi viene qualche problema fisico devo essere più determinata assolutamente sì devi essere più determinata perché nel momento in cui tu non segui le tue intuizioni quindi non stai nell'interezza del tuo essere paghi dazio in questo caso a livello fisico quindi assolutamente bisogna che noi impariamo a dare priori eccezioni e alle nostre comprensioni e metterli in atto perché altrimenti a livello inconscio le somatizziamo mi raccomando Emilia grazie a te Sabrina allora intanto vi ringrazio anche per il vostro interesse sui numeri allora sono le 20 e qualche minuto devo chiudere qui la diretta sono molto felice che anche questa sera mi abbiate seguito così numerosi vi ricordo che domani sera alle 19 sono sempre qui in Bridge of Light in lingua spagnola hablamos castellano magnano a noce e e quindi se volete seguirmi domani sera ci sono volete scrivermi in messenger per qualsiasi consiglio per qualsiasi approfondimento fatelo e io vi risponderò magari non subito perché ci metterò forse qualche giorno ma state sicuri che che vi rispondo va bene io vi ringrazio vi auguro buona serata per chi vuole andare a cena a cena buona cera e chi vuole rimanere collegato qui a Bridge of Light buona prosecuzione con i prossimi relatori ciao ciao